Perché ho preso casa proprio per questo, perché c'era un'area verde bellissima davanti, oltre a altre proposte, ho scelto proprio di vivere qua. E niente, vorrà dire che quando aprirò le mie finestre, anziché vedere il verde, sentire gli uccellini, vedrò lo scarico delle macchine e sentirò magari i camion che passeranno davanti a casa mia. Noi dobbiamo lottare, come in altre occasioni, peraltro in questi 47 anni, per tutelare questa zona che è stata scelta da me 47 anni fa per crescere i miei figli e da tante altre famiglie che in questi anni hanno scelto di vivere qua proprio per questo motivo. Perché qua è vivibile, perché c'è il verde, c'è la vivibilità anche umana, ci si incontra con le persone, si vive una realtà che adesso non si vive più. E i residenti di villaggio San Marco non lo accettano, per questo stanno facendo il possibile per impedire che in una delle poche aree verdi di mestre e rimaste si costruisca l'ennesimo centro commerciale con una torre altissima che andrà in alcuni casi a togliere anche la luce. Un condominio ha fatto presente che avrà una riduzione di luce durante l'arco dell'anno, causa l'altezza del grattacielo. L'hanno ridotta e ci fanno e hanno dato la sensazione che questa riduzione porta dei benefici riducendo da 80 a una cinquantina di giorni l'esposizione del cono d'ombra. Non è accettabile questa cosa, perché anche fosse un solo giorno è per tutta la vita. Quello che l'amministrazione vuole realizzare è una ferita al territorio, una ferita sotto diversi aspetti, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista della residenza, del consumo del suolo, della vivibilità dei cittadini. E dobbiamo tenere presente che tutto parte dalla necessità di modificare un'area di 26.000 metri quadrati con un costo circa di 2 milioni di euro. Ecco, per fare questa giusta bonifica si vuole costruire una torre di 60 metri, una zona commerciale di oltre 4.500 metri quadri e tutte le opere urbanistiche annesse e connesse. Questa è una speculazione. E i residenti non hanno intenzione di arrendersi. In un mondo dove dobbiamo salvare il pianeta, noi invece distruggiamo il verde. Non c'è acqua e quindi non sa dove vogliono portarci. Sarebbe meglio che buttassero una bomba e fine fanno quello che vogliono, perché noi non ci arrendiamo.